Come sindacato italiano balneari Campania, insieme alla Confocommercio Caserta, da sempre vicino agli interessi del territorio e attenti ai bisogni speciali nell'ottica di facilitare un turismo accessibile, vogliamo dotare alcuni stabilimenti balneari del litorale Domizio Flegreo di ausili di mobilità, le sedie job prodotte dalla Neatec che consentono ai portatori di Entigap di muoversi in maniera più agevole tra spiaggia e mare. Sostieni la nostra campagna Litorale da Mare con un contributo economico su meridionare.it e aiutaci a realizzare i nostri obiettivi. La Confocommercio Campania, sapete che ha pensato? Di donare, partendo dal litorale Domizio Flegreo, proprio delle serie speciali per far fare il bagno, ragazzi, senza fare un chic a persone che hanno dei problemi, che è un'idea geniale e voi potete contribuire, quindi vi sto dando comunque una possibilità andando sul sito meridonare.it e fate un piccolo dono perché voi potete contribuire a rendere vera questa cosa meravigliosa. Io mi fido di voi.